dei giovani, entrambi hanno di nascita 2003 e poi l'esperto McDonald in sesta partenza decisamente sostenuta per Teboco che fa gara su Rashin McDonald che di anni ormai ne ha 31 Pile controlla da esperto quattrocentista, qual è? Teboco passa, McDonald, Pile non sembra averne, Teboco stringe i denti, ci prova a rientrare McDonald, gioca di esperienza ma non basta, la gioventù di Teboco 44 e 76